Una scuola grande come il mondo di Gianni Rodari. C'è una scuola grande come il mondo. Ci insegnano maestri e professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così così. Si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a voler bene e perfino ad arrabbiarsi. Ci sono esami tutti i momenti ma non ci sono ripetenti. Nessuno può fermarsi a dieci anni, a quindici, a venti e riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero quanto è grosso. Apri gli occhi e anche tu sarai promosso.